Le migliori nel mondo le recensisce per noi il maestro Alessandro Haber che dovrebbe trovarsi inviato proprio per questa ragione in Svizzera. Pronto maestro, è collegato? Buonasera, ciao a tutti. Ecco, siamo qui con Alessandro Haber, il grandissimo attore che tutti conosciamo, in veste di, come dire, recensore di spa per noi di Sianoziano, in quanto grande appassionato di relaxing, diciamo così, vero? Diciamo così, una cosa fondamentale, dovrebbero farlo tutti quanti, e questo è proprio dove mi trovo adesso in Svizzera, a termine di balza, è veramente il posto migliore, dove soltanto arrivando in Svizzera già si sente questa calma, questa gente che non è nevrotizzata, che non gliene frega, si dice fregata al semaforo, cercare di sopraffarti, come viviamo noi, come delle verge, in questa città delle cose. Calmo, 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 sono tranquilli, tranquilli lì, tutti impinati, tutto pulito, e vieni, allora già fai un massaggio, già ti senti meglio, io ho provato questo massaggio a Guaiano, ecco, com'è questo massaggio a Guaiano? Un massaggio, un massaggio, una cosa inescrivibile, mi sono veramente decontrato tutto, mi sono rilassato su questo cazzo, ero spalmato, godevo come un maiale, porca miseria, bene, e che è successo poi? E a un certo punto questa signorina maledetta mi è venuta con quest'olio bollente del cocco del cazzo, se l'olio bollente era di cocco, si sentivo questo odore di cocco e dicevo, ma che cazzo, c'è una cucina qui vicino, arriva con quest'olio e me lo schiaffa sulla schiena, mi sento sgridare, va a fa***a! Ma scusa Alessandro, però stai calmo, ma fa parte della terapia, c'è il massaggio, lo so benissimo, fa parte un cazzo, io mi sono uscionato la schiena, cazzo, ma non è un cazzo, ma non è un cazzo, ma che è attaccato, ma che è attaccato, Alessandro? Maestro, attaccato, lo richiamate? Scusa, per te lo puoi richiamare, grazie, ecco, sentiamo se è in linea, pronto? Pronto! Ecco, ma che è attaccato, hai attaccato il telefono? È caduta la linea, non prendeva, va bene, va bene, sembrava che si avessi attaccato, va bene, comunque stai bene. Però figurati, no, 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 hanno avuto bene, a parte l'olio di cocco bollente, non mi ci mandate più, e nel resto, massaggio a Guaiano tutta la vita, la Svizzera è meravigliosa, è un posto bellissimo la Svizzera, non è un posto brutto, doggoglioso, che dicono, ah, ha inventato solo l'orologio al cucù, meglio l'orologio al cucù, che quella m*****a di città, lo vediamo noi, ma grazie, va bene, grazie, basta così, grazie, ciao, ciao.